Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che come vedete dall'inquadratura è un video un po' attrezzato all'ultimo secondo perché non so dove mettervi, fondamentalmente non so dove mettervi, se intanto mi sistemo perché ovviamente queste cose non è che le puoi fare prima, le devi fare in diretta, va bene, svuota la spesa Lidl, allora vi dico subito che sono le tre e mezza e noi non abbiamo pranzato, ho una fame che muoio però faccio il video per voi e faccio questa cosa solo per voi, mettetevi una manina sul cuore, 100.000 like solamente perché io sto facendo il video affamata, affamata, che tra parentesi ho qui quello che sarebbe il mio pranzo merenda che è lo yogurt greco che abbiamo comprato apposta, si adesso io lo faccio vedere e io sto aspettando, lui sta mangiando perché si ha già fatto il suo cosettino io ho detto vabbè facciamo prima il video poi mangiamo, non c'ho fame e quindi niente non vuoi dire niente, insomma discorpa tu buon appetito quindi tanti like solamente perché io sto facendo questo video affamata e sto aspettando prima di mangiare allora, basta, sta venendo una battutina però stazione allora la spesa che abbiamo fatto è la spesa settimanale, lo sapete benissimo come funziona diciamo qui a casa noi e abbiamo speso 80 circa abbiamo speso più o meno sugli 80 euro abbiamo preso un po' di tutto, non ho preso solamente cose da mangiare perché abbiamo preso anche questo che era in super offerta a 2 euro e 50 circa e sono dei pacchetti di fazzoletti della marca Floralis che penso che siano quelli della Lidl a questo punto e sono tantissimi, cioè sono tutti questi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 potevo anche contarli prima ma fa niente tutti questi pacchetti di fazzoletti ovviamente doppio quindi quelli che ho detto prima a doppio 42 e mi piacevano a parte per la questione convenienza ma perché i fazzoletti ti servono sempre e perché erano di queste due fantasie qua una sul sfondo rosato, una sullo sfondo bianco molto molto carine quindi anche con i fazzoletti per soffiarci il naso siamo fashion lo stesso quindi questo è poi abbiamo preso sempre della Floralis lo scottex perché l'abbiamo finito e quindi non ce l'abbiamo abbiamo preso questo qua che sono i 3 maxi rotoli 3 per 80 anche questo è venuto più o meno sulle 2,50 euro se non mi sbaglio però c'era anche la versione solamente c'era la versione a 4 anche però erano meno strappi e quindi abbiamo preso questo e niente quindi questo patex per la suocera e poi iniziamo per bene allora vi parlo subito di questo perché sta già fuori questo qui è uno yogurt greco cremoso con il 10% di grassi niente zucchero non c'è zucchero ecco lui sta praticamente già facendo la review di questo prodotto non c'è zucchero e non c'è zucchero pochissimi carboidrati veramente pochi un buon quantitativo di proteine comunque questo qui e penso che sia della settimana quella greca infatti abbiamo preso questo che è la versione famiglia da un chilo e questo è venuto sulle 3,30 euro più o meno e poi abbiamo preso anche un altro che però in questo momento non so dove l'ho messo quindi dopo forse ve lo faccio vedere prima busta allora prima busta ce l'ho tutte cioè sono contornata di buste ce l'ho una qua una qua sotto e una qui allora prima busta ho preso i mitici ecco lo scondrino 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 ah ora vi dirò precisamente 82 euro e 15 centesimi esatto dalla regia 82 euro e 15 centesimi allora abbiamo preso questi allora noi mangiamo pochissimo pane ma non adesso cioè non è solamente una cosa di adesso ma è una cosa in generale ultimamente sono praticamente da quest'estate passata che noi mangiamo pochissimo pane allora visto che già non mangiavamo poco adesso praticamente zero abbiamo diciamo sostituito il pane con le gallette oppure ancora meglio perché a me le gallette non mi piacciono con i vasa e ho trovato questi che costano decisamente meno della metà dei vasa classici e sono questi qua sono queste fette croccanti queste verdi sono normali queste qui invece sono arricchite con i semi di sesamo e sono entrambe fatte con la farina di segale a me piacciono tantissimo perché ci si possono fare tantissimi usi di questi e sono leggerissimi e abbiamo calcolato che sono più leggeri addirittura delle gallette no sono più leggeri me lo ricordo perché l'abbiamo visto proprio dalla tabellina sì sì c'è un po' di differenza insomma c'è un po' di differenza decisamente c'è meno sale e quindi abbiamo optato per questi e l'ho preso in due pacchi ho preso sia due di quelli verdi e due di quelli rossi perché che fai? cioè appena volta che ce vai te li pigli e quindi niente ah venivano 86 centesimi più o meno sui 90 centesimi venivano più o meno se voi calcolate che un pacco di vasa vi costa sulle 5 euro quasi cioè non c'è paragone 85 centesimi 85 centesimi i vasa classici costano sulle quasi 5 euro perché alla coppa almeno qui da me costano quasi 5 euro quindi che fai? te li pigli? eh 85 centesimi va bene 80 dei pacchi c'era da prendere una scorta enorme poi abbiamo preso per la colazione per i pubi soprattutto per la colazione per la colazione dei bimbi maggiormente perché a volte io appozzo su questi sono sincera tutte le mattine a colazione no non è vero a volte non sempre io appozzo un po' sulle gocciole perché mi piacciono invece queste so proprio per loro perché non ci appozzo mai cioè ci appozzo giusto proprio perché non c'ho niente comunque simil gocciole e simil pandistelli anche questi senza olio di palma come quelli che si trovano non ci fate caso cioè vi chiedo una cosa non ci fate caso perché noi è così cioè fiamo le cose ma non si possono fare vabbè comunque entrambi senza olio di palma e guardando anche gli ingredienti guardando soprattutto la tabellina dietro le classiche tabelline dove vi dicono le grammature eccetera non sono neanche male come grammatura eccetera e quindi li ho voluti prendere e questi stanno all'incirca sotto i 2 euro a confezione poi invece per noi abbiamo preso questi i simil gran cereale abbiamo preso questi classici questi qui sono con i cereali ricchi di fibra anche questi senza olio di palma e poi abbiamo preso questi sono due è la confezione doppia questi qui invece sono la confezione singola e sono quelli con all'interno la frutta buoni e sempre simile gran cereale quelli alla frutta sono identici dei sapori poi passiamo alla seconda busta seconda busta oddio allora sempre in tema colazione abbiamo ripreso questi allora l'ultima volta che siamo andati un po' di tempo fa lì l'abbiamo preso questo buono che è il muesli biologico al cioccolato con le scaglie di cioccolato ci è piaciuto tantissimo è durato pochissimo è durato poco è vero ma perché noi purtroppo siamo da cereale soprattutto al cioccolato e quindi quando l'abbiamo quando l'abbiamo visto l'abbiamo ripreso e stavolta abbiamo preso anche questo che è quello sempre infatti nello yogurt ci ho messo questo qua ok allora stavolta abbiamo aggiunto anche questo che è sempre della stessa linea solamente che è quello con la mela e le nocciole fruit and nut si nocciole quindi ecco abbiamo preso questi due questi costano un pochino per il quantitativo che hanno perché è mezzo chilo a pacco costano un po' però sono molto buoni quindi se uno praticamente centellina il quantitativo durano durano quindi niente e questo era ancora per la colazione io sto a fare la cadastra prima o poi qualcosa casca sicuro allora Samuele era rotta no si è rotta adesso si è rotta adesso vabbè gira la sotto sopra mangia eh no è dritta la scritta non si metto la mano così allora per Samuele ho preso questo qui muoveri come che è il biomix tropicale all'interno c'è banana cocco papaya mango olio di cocco zucchero poi antiossidante regolatore di acidità da agricoltura biologica è buono non è per me è per Samuele c'è tanto di cocco perché io queste cose non è che sono molto incline io so più per la roba col cioccolato più che la roba con la frutta però l'assaggerò vi farò sapere com'è adesso questa io sto facendo così perché non perché voglio fare la splendida ma perché c'è un buco quindi olè rigiriamo dovete stare attenti stateci attenti quando andate a Lidl perché noi ad esempio quello al cioccolato abbiamo dovuto cambiare la confezione perché era rotta una quindi occhio quando andate a Lidl perché non ci fate caso ma basta un buchino così per farvi casca tutto quindi scusa rovescia proprio tutto il contenuto ma dopo tocca a metterci qualcosa per tenere la chiude poi andiamo avanti frutta banane che a casa nostra non devono manca mai sembriamo scimmie soprattutto loro tre per quanto ne mangiamo sembriamo scimmie io ne mangio arance carocco carocco due confezioni da da mezzo chilo quindi tre chili di arance e voi immaginate perché tre chili di arance perché qui tra spremute e arance mangiate a colazione a pranzo e cena queste finiscono come le banane prima un po' di cocco no come le banane prima quindi ok mettiamola non è voglio sbrigare me c'ho fame scusate lo potete mangiare pure come le patatine così buono ok poi clementini queste qui invece sono un chilo un chilo di clementine e poi una bussona di miele valvenosta che erano in offerta non mi ricordo a quanto però però insomma erano in offerta queste qui ed erano in offerta anche le altre che abbiamo preso più piccine passiamo all'ultima busta cime di rava cime di rava pugliesi perché praticamente all'euro spin dove vado a fare la spesa di solito sono praticamente finite non le mettono più e quindi quando l'ho trovata ho detto no le devo assolutamente prendere anche perché queste sono buonissime un po' come gli spinaci quindi via poi tre peperoni questi qui pure erano in offerta in confezione già da tre 500 grammi e diciamo che a noi ci bastano e ci avanzano tre peperoni quindi questi lui intanto mette a posto la spesa che tiro fuori non vi preoccupate finocchi i finocchi a casa nostra non mancano mai ancora nel frigorifero ma li tengo perché mi piacciono troppo insalata so è un attimo li tagli li condisci e sta a posto e se vuoi fa una cosa ancora più golosa ci metti dentro no ci metti dentro l'arancia tagliata a pezzettini è un bijou poi le mini mele allora queste qui mi hanno attirato perché un po' perché erano in offerta e un po' perché proprio mi attirava l'idea che c'era scritto mele per bambini io mi faccio attirare da ste cose scusatemi sono delle mele più piccole rispetto alle mele classiche vedete sono leggermente più piccole e c'è scritto mele per bambini ideale per la merenda dei vostri figli e c'è praticamente anche la grammatura di tutti di tutte le cose che contiene una mela ed era un bel sacchettino perché è un chilo e io sinceramente a bambini gliela do la mela ma gliela faccio una e mezza quindi visto che Alessandro non è molto in fine a mangiare le mele preferisce le banane almeno ora ora gli do questa così le mele grosse me le tengo per me mamma furba è egoista pure vabbè andiamo piccola intrusione di beauty ho preso i maxi dischetti della Sien perché mi servono ho finito i maxi dischetti ho solo quelli piccoli ma per struccare il viso a un macello e poi ho preso i cotton fioc che praticamente sono finiti da una vita a casa nostra e quindi era d'obbligo prenderli poi partiamo qui con le cose che a me piacciono perché mi piacciono ciao allora partiamo con le cose da frigo ho voluto prendere della pasta fresca allora questa è con la farina integrale sono i bio ravioli con ricotta e spinaci sono 250 grammi quindi per due persone scarse sta a fan casino scusate per due persone e sono appunto dei ravioli fatti con farina integrale di pasta integrale hanno all'interno le uova e poi il ripieno appunto è fatto di ricotta ricotta spinaci mi piaceva l'idea del fatto che fossero mi piaceva l'idea del fatto mi piaceva l'idea che fossero integrali mi piaceva l'idea che fossero integrali quindi li ho voluti prendere per questo anche perché ricotta e spinaci si mi piacciono ma non è che sono la mia gioia preferisco quelli di carne però ecco li proverò e vi dirò come sono poi sempre seguendo la stessa scia ho voluto prendere questi qui della my best veggie non perché noi siamo vegani o vegetariani ma perché ci piaceva l'idea allora abbiamo preso questi qui alle verdure grigliate però voi mi vedete proviamo da qua allora abbiamo preso questi qui che sono quelli alle verdure grigliate hanno all'interno le verdure grigliate vedete con la figurina e sono di questo colore qua sono sul giallino e pronti in 5 minuti vegani senza lattosio senza conservanti aggiunti vabbè comunque peggy quindi per chi è vegana o vegetariana questi qui penso che vadano bene e poi abbiamo preso questi ai legumi questi sono quelli che io so curiosissima di provare perché veramente più che quelli con le verdure sono curiosissima di provare questi con i legumi anche per un apporto di legumi in più durante un pasto e ci sono all'interno ceci lenticchie ceci e lenticchie polpa di pomodoro cipolla vabbè comunque ceci e lenticchie maggiormente quindi acqua questi qui questi provateli perché non costavano neanche tanto mi sa che venivano 1,99 euro a confezione però insomma sono carini per se uno li vuole provare che magari ha ecco una voglia particolare di fare un pranzetto un po' più particolare un po' più leggero questi secondo me sono molto molto comodi poi abbiamo preso il miele miele da caccia marlene boh miele perché l'avevamo finito quindi va bene poi abbiamo preso la cioè ha preso la marmellata d'arance questa qui che è maribel marmellata d'arance 35% frutta e poi ha voluto prendere questa che è invece 30% di calorie perché è solamente il 50% il 50% di frutta con meno zucchero ed è questa qui ed è alle albicocche proveremo anche questa e vi faremo sapere poi ho preso due confezioni di tonno ho preso questo non so che tonno sia perché non l'ho mai preso da mia due confezioni di questo qui prima scelta l'olio d'oliva della puerto dorato 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 roba di lì boh non so ho preso la confezione grande 160 grammi a confezione vediamo un po' com'è poi succhi di frutta per i bimbi alla pera alla pera e all'albicocca questi sono per i bimbi poi due confezioni di latte scremato sempre per aurora quelle a lunga conservazione un litro sì quindi poi passiamo alle cose fresche di nuovo abbiamo ho voluto prendere una cosa che io amo tantissimo è che a Lidl c'è il banco del pesce cosa che all'eurospin non c'è e quindi quando ci passiamo se c'è qualcosa che mi piace la prendo ho preso i filetti di platezza perché secondo me è il pesce fatto semplice che c'ha più sapore rispetto a quell'altri quindi lo preferisco questi sono 250 grammi e poi abbiamo preso la fesa di tacchino a fette questa qui sono 450 grammi non mi ricordo quanto veniva il chilo vabbè pazienza comunque la fesa di tacchino di solito comunque la fesa di tacchino viene poco e poi abbiamo preso questo questo era otitubante tra prendere proprio questo e prendere invece le fettine già fatte di petto di pollo alla fine abbiamo preso questo perché abbiamo detto per 2 euro in più possiamo fare metà a bocconcini e metà a petto di pollo e comunque abbiamo risparmiato e quindi ho preso questo qui che sono 1 chilo e 121 grammi di petto di pollo anche questo certificato italiano e finché non abbiamo i nostri polletti dobbiamo comprare anche noi il pollo come tutte le persone normali quindi io ho finito intanto c'è qui la luce va e viene non perché ci siano delle nuvole a raggio ma perché Samuele sta mettendo a posto la spesa mi passa davanti alla finestra comunque la spesa è finita qua ok la svuota la spesa Lidl è terminato con tutti i pro e contro di questo benedetto video io adesso vado finalmente a fare il mio pranzo merenda perché sto morendo di fame dopo ben 24 minuti che parlo quindi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se l'avete provati datemi indicazioni su altri prodotti da provare datemi indicazioni su altri prodotti da provare perché Lidl è un pochino distante da casa mia quindi quando ci vado magari ci vado già con una lista di cose già predefinite senza perderci tempo perché oggi ci abbiamo perso un'ora perché io mi sono messa a guardare tutte quante le cose tutte quante le confezioni tutti gli ingredienti eccetera quindi non posso perdere un'altra ora dentro un supermercato quindi fatemi sapere se ci sono delle cosine più buone da prendere che io non vi ho fatto vedere e niente detto questo iscrivetevi commentate ci vediamo al prossimo video ciao a tutti